Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio e oggi siamo qui con un nuovo video di Fortnite. Oggi, come vedete, sono uscite le nuove sfide di Batman e è uscito anche il nuovo pacchetto che credo di sciopare. Allora, oggi vi farò vedere una partita bellissima che all'inizio sembrava una partita normale, con armi normali, però poi è diventata una partita eccezionale, avendo trovato tre lama e facendo la vittoria reale, facendo la nostra vittoria reale. Ok ragazzi, partiamoci in chiacchiere, io vi lascio il video, bella. La partita me la salvo sta partita. Ho sguazzi, gli hai tre? Quasi sì, ce ne ho cinque. Due, due, due. Ok, intanto mi sa che Massimo è sei. Cioè, ma c'è un full di materiali. Vero. Io sono 999, 700 e 600. Eh minchia, buonissima. Minchia? Non siamo, non abbiamo fatto neanche una kill. Ci camperiamo a Box 7? No, no, non lo voglio. No, no, Fabi, cioè non è possibile sta roba. Cioè, mi sa che proprio in oro massiccio c'è sta probabilità maggiore di trovare lama, eh. Perché boh, non so cosa dire. Ti animiamo, le animiamo il nulla al camioncino. Ma andiamo là. Oggi vede. Qua fa da me. Lo so, lo prendo da me. Grandissimo, Fabi. Ecco, che chiedevo, che c'è, mi lascia il lancio, va bene, ti lascio anche i colpi, eh. Due. Due. E... Barretto, 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 barretto. Prendilo te. Sono fu... No, 63. Ho due cildine, uno sculvera 50. Eh, due cildine. Eh, sì, sono più veloci, tanto la somma. Sì, no, è uguale, però sono molto più veloci cildini, eh. Cioè, tre cildone, o cinque cildine, o sei cildine, è la stessa. Andiamo, no, non è vero quella stessa cosa. Eh, sì, sono di più, oh, gente, là, sotto la montagnetta. No, noi andiamo, vediamo, 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 perché c'è nulla, ecco, vedi? Eccoli, 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 non facciamo il giro, guarda, non spariamo tutti. Aspetta, voglio i giochiali. No, mi ha visto, mi so. C'è una jump. Oh, c'è. Io vado con la jump. Ciao. Eh, ma li seguiamo? Boh, vediamo, dipende dove sono. Ah, mettiamoci dietro, mettiamoci dietro. Oh, prenditi, prendi sta jump. Chi lato? Cioè, 106, 157 a 1? Quale? Ah, è a 1 che è rimasto con l'amico a terra. Ucciso l'amico a terra, è rimasto quello la... Ok, grande. Ultimo. Chi lato? GG. Oh, comunque c'è un team all'assorto. Batarang! Madonna, mi ha finito un batarang, eh. Mi faccio due sguazzi, eh. Mi sono tirato due sguazzi. Deve ampliare la jump. Qua ci sono tre scildini, pendili. Eh, sono full. Io gli intigo il batarang. Perfetto. Sono full di tutti mazzo, praticamente. Anche, anche. Anche solo un po' di ferro, 200 di ferro, tipo. Oh, riesci a sparare a quelli che stanno sparando me. Oh, ma hai fatto airshot. Ho trovato tutto lo scudo, praticamente. Io mi faccio uno scildino e delle cure bomba. Ok, sono rimasto due. Oh, dove si sono loro? Sono sopra ancora. Uno è sopra, sicuro. Però ho paura di affacciarmi, ecco. Grandi fasi. Eh, 12, porca troia. 11, veniremo. Quindi, quando sono da te, venirei qua, tu da me, vieni tu, anzi, no, vengo io da te, che è più bello. Eh, sì, sì, mi metto, perciò. Vai, 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 vai. Anch'io, eh, mi tengo i colpi. Oh, io avanzano, 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 io ho un coso, dovesse sì, o dobbiamo andare, oh, vieni qua. Cosa? Dalle, grandissimo, Fabio. Qua c'è un botto di lutto, siamo in sei. Oh, c'è gente super di me. Ah, vieni qua. A terra uno? A terra, a terra, a terra. Ok. Arriva. C'è l'amico? Cazzo fai, Fabio? Sono io questo. Cioè, non ce l'aggi? Ti dà. Scusa, Fabio, ti vediamo un po' di difficoltà. Minchia, è pochissima vita, fatti qualcosa. Minchia, mi sono per sparare un ragazzo. Madonna, se ti avessi sparato un... Uh, siamo due contro due? Fatti intorno, fai tutto il resto che vuoi qua. Cos'hai oltre ai, falò? Eh, basta, scildini. Scildini e vabbè, c'ho il cura bomba io. Li faccio tutti e due. Vai, 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 falli, falli, falli. Perfetto, adesso siamo messi bene. Facciamo un lancio razzi, sicuro. Ok, lo prendo io. Con i colpi all'essi. E anche io lo sentiti, però non mi ricordi io. Quanti colpi hai di razzo? Full, full, full. Ok. O vieni safe. Sto arrivando. Eccoli, sono in fondo. Sono lontani da noi. In fondo là. Eccoli. Ah, perfetto. Hai visti? Che costruiscono? Magari siamo anche con uno con uno. Ficciamoci sopra sta montagna, sopra sta montagna. Hai una jump, scripala. Ma perché tu cosa hai usato? Il rampino? Sì, sì, sì. Io no, io c'ho due jump addirittura. Vabbè, tanto non credo che ci servono. Io vado. Vado, vado, io. Una white. Vai Fabi, grandissimo. Chilato. GG, boy. Grande Fabi. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi come al solito ci vedremo tra 24 ore con un nuovo video. E ragazzi lasciate un commento, un mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.